Salve a tutti e benvenuti a un nuovissimo video Video tanto atteso che in realtà anche io attendevo tantissimo perché è veramente tanto da dire E ci tenevo appunto a fare un video a parte rispetto a quello del vlog vero e proprio Perché comunque inserirlo nel vlog sarebbe stato un attimino mischiare due modi di vivere il video vero e proprio in maniera differente Perché appunto il vlog è stato un po' giocherellone, un po' lo sapete io come sono fatta Mi piace comunque scherzare, mi piace ridere per quanto io sia molto seria sotto alcuni punti di vista Mi piace anche comunque ridere, scherzare, fare un po' di casino eccetera eccetera Quindi la nostra scampagnata a Glastonbury è stata così, sicuramente nel rispetto più totale dei luoghi sacri Però appunto mi sono anche molto divertita con i miei compagni di viaggio Però la parte seria ecco, vera e propria, volevo farla un attimino poi da sola più sistemata Allora, sogno di andare a Glastonbury da veramente tanto, saranno sicuramente almeno due anni Perché da prima che iniziassi a scrivere la mia tesi io mi sono laureata più di un anno fa Quindi fatevi un attimo due conti Per me Glastonbury non è soltanto quella che si dice Avalon Perché io sono molto scettica sotto questo punto di vista Perché alla fine sicuramente l'Avalon per come la conosciamo noi attraverso il film e attraverso i libri È una realtà che sicuramente è meravigliosa, è bellissima Però io stento a credere che effettivamente sia esistita e soprattutto sia esistita Glastonbury Mi piace comunque immaginarla, soprattutto dopo aver vissuto Glastonbury Un'eventuale appunto Avalon vera e propria Però appunto come poi dopo studiando la tradizione avaloniana E come poi in generale vivendo questa tradizione Vivendo Glastonbury si impara comunque a capire che In realtà la vera Avalon è un concetto più spirituale Un po' legato appunto al fatto che secondo me ci sono queste realtà parallele dei vari mondi E attraverso i nostri viaggi spirituali poi ci riusciamo ad accedere più o meno Quindi sono partita appunto più di due anni fa con l'idea di voler andare a Glastonbury Per connettermi comunque con questa che è la tradizione avaloniana O comunque connettermi con quello che le persone dicono di sentire lì Con quella che è la presenza vera della Dea Anche se appunto ribadendo il concetto Il concetto che comunque per me la natura è il divino E ovunque non vedo perché Glastonbury debba essere più magica di altro Però appunto ci sono alcuni luoghi nel mondo Che hanno un'energia particolare E quindi io volevo proprio sperimentare questa energia Sentirla Soprattutto in un periodo della mia vita come quello di questi ultimi due mesi Volevo sentire la differenza Avevo veramente Sono stata un po' santommaso della situazione Lo so che non è una cosa molto positiva Però sono andata lì con il cuore più aperto Che più aperto non poteva Con tutta la voglia e il desiderio di questi anni passati a sognare Glastonbury A disegnarmi la nulla sulla fronte come le sacerdotesse di Avalon Ho desiderato veramente tanto tanto andarci Quindi quando la mia amica è venuta e mi fa Dai andiamo a Glastonbury Ovviamente ho detto sì immediatamente Ero talmente rincoglionita Passato nel termine Che ho prenotato i biglietti Nel giorno sbagliato Ho dovuto poi riprenotarli È stato un casino Però alla fine siamo arrivati Allora già mettere Io ero stanca Avevo mal di testa Avevo lavorato 60 ore e mezzo La settimana prima E ci sono andata agli unici giorni liberi Quindi poi sapevo che quella che mi aspettava Era un'altra settimana di lavoro Dove ero stanca Dove partivo stanca Quindi sono partita un po' Non triste perché ero felicissima Però stanca Ecco Ho messo piede a Glastonbury Mi sono iniziata a guardare intorno E mi sono sentita come drogata Come se fossi assuefatta da qualcosa Perdi totalmente la concezione di tutto Quando arrivi là È sicuramente una città come tante altre Però si respira un'aria diversa Senza contare che appunto è immersa nel verde Quindi si respira effettivamente un'aria pulita Però è una cittadina tranquilla Dove ti giri, ti giri Vedi negozi esoterici Che vengono roba meravigliosa Ci sono alcuni pub molto 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 a tema Ma se c'è una delle esperienze Che più mi ha lasciata Mi ha proprio cambiata nel profondo Non è tanto la salita sul Thor Devo dire la verità Tutti quanti dicono che la salita sul Thor È quella che ti dà un attimo di Come un cammino iniziatico appunto Ma a me la parte che più mi ha lasciato Totalmente Mi sentivo proprio completamente felice Completamente immersa nella natura Completamente a contatto Come se io avessi rincontrato una persona Che ho amato per tutta la mia vita E la rincontravo dopo mille anni È stata andare alla Fonte Rossa Per me quando ho sceso dal gradino Sarà che io ho un contatto molto forte Con anche questo secondo me Con quello che sono le cascate O comunque le fonti d'acqua Che io sono elemento acqua Ma non sono connessa all'acqua come mare Ma sono connessa all'acqua come pioggia E all'acqua come cascate Tantissimo Quindi quando sono arrivata là E mi sono trovata questa fonte meravigliosa di acqua Questa giornata meravigliosa Perché siamo stati fortunatissimi C'è stato un sole incredibile E questo giardino magico Perché era magico Non ho capito più niente Sono stata totalmente presa Sarei stata le ore lì Veramente non me ne sarei mai andata Sarei rimasta lì E arrivederci e grazie mondo Arrivederci e grazie lavoro E chi se ne frega C'è stato un momento particolare Che ho sentito come se mi Mi si stringesse il cuore Come se qualcuno mi stesse Veramente stringendo il cuore Praticamente alla fonte rossa Ci sta appunto La fontana generica Questa qua Che magari vi lascio una foto E poi poco poco più su Ci sta proprio questa cascata Che è quella là della fotografia Dove sto io Vi lascio la foto E Là io sono E praticamente dentro questa porticina Che tu entri E noi non l'avevamo vista là per là Quando poi abbiamo salito le scaline Si è spalancata questa cosa Io sono stata un attimo Veramente mi sono presa Questi 5 secondi in silenzio Prima di entrare Per la serie Oh mio dio Che meraviglia E poi mi sono andata Ho posato tutto Infatti GoPro che volava I miei vestiti Da tutte le parti Mi sono accovacciato davanti la Davanti la fonte E non ho capito più niente Cioè sono stata lì E sarei rimasta lì E sarei continuata a stare lì Con le mani nell'acqua Con le mani a toccare quella Le rocce Il tutto Per me è stato come una Come Come se mi fossi riconnessa Con un'energia troppo grande Da esprimere a parole Ho veramente difficoltà E lo sapete che io chiacchiero sempre Non ho mai problemi Però Esprimere a parole Tutto quello che ho vissuto In quel momento È veramente difficile Perché È un sentimento di amore Proprio Che ti entra dentro Come se Tutto di Come se ti guarisse Come se Per un attimo Venissi abbracciato Da un qualcosa Che ti dice Non ti preoccupare Io so esattamente Tutto quello che hai vissuto So esattamente Tutto quello che hai dovuto vivere Quello che hai dovuto affrontare Ma non ti preoccupare Da oggi in poi Puoi camminare Più leggera Perché Ti do una mano io Con questi problemi O in un certo senso Ti pulisco Da tutto quello Che è il tuo bagaglio pesante Che ti porti dietro Io mi sono sentita Esattamente così E se soltanto ci penso Mi viene una cosa alla gola Veramente Tipo magone Ed è veramente Eccezionale Non ci sono altre parole A me è quella che È stata l'esperienza più Più forte di Glastomboli Poi dopo Quell'esperienza lì Tutti contenti Gasatissimi Anche se un po' di corso In realtà Perché Noi siamo partiti Alle sette e mezza Da Victoria Station Quindi A me la sveglia Sono andata Alle sei meno un quarto E siamo arrivati A Bristol Alle dieci e mezza No Vabbè Alle dieci e mezza Poi alle undici Abbiamo preso Un altro pullman Che ci ha portati A mezzogiorno e mezza A Glastomboli E alle sei meno un quarto Di sera Quindi solo sei ore dopo Abbiamo preso Il pullman Per ritornare Perché io poi Il giorno dopo Sarei dovuta andare a lavoro Quindi anche volendo Non potevamo trattenerci di più E dopo di quello Siamo andati al Thor Che io non avevo capito Quanto alto fosse Penso che si è capito Dal video E veramente Mi viene il termine inglese È immenso È incredibile Anche se L'emozione La felicità L'euforia Il sentimento Che ti portava A stare lì Al fatto di vivere Questo cammino Non ha fatto pesare Tanto la fatica Sì stavamo Stai anche perché Era ripeto così Però Quando poi arrivi Lassù Ciao Anche lì Io sarei rimasta Stesa sul Thor Per tutto il resto Della mia vita Infatti la prossima volta Che ci torno Sicuramente Mi faccio un weekend Perché voglio Voglio vivermene Tutto con calma Anche perché Ho scoperto che ci sono Tantissime altre cose Da vedere oltre quelle che ho visto Quindi puoi fare un altro video Però C'è Le fotografie I racconti Delle altre persone E io ci sono andata da sola Quindi non ho conosciuto Né Katie Jones Né tutta quanta L'organizzazione Che c'è dietro Con la Stomburi Né tutte quante Le feste Che fanno Nelle celebrazioni Eccetera eccetera Cioè io già andandoci da sola Io sono stata molto contenta Anche di questo Mi Mi sono sentita Totalmente Riconnessa Totalmente Come se fossi tornata a casa Ecco Come se Fossi Fossi stata capita Come se mi fossi sentita Esattamente Al posto giusto Per la mia prima volta In vita mia Probabilmente E salire su quel tour Mi ha fatto sentire Parte del tutto Infatti Quando poi sono andata A rivedere la ripresa Quella dove Sembro una cretina Che gira con la telecamera Così Che sembra che c'è una faccia Da Cioè sembro stupida Effettivamente Però ero troppo contenta Cioè in quella Quella ripresa È esattamente L'espressione Di quel viaggio Io contenta Io felice Non mi vedevo così contenta Da veramente Veramente Tanto tempo È un'energia Troppo grande Soprattutto quando si Tocchi il tour È È come se fosse Una mega antenna Ti senti Parte del tutto È bellissimo Veramente Veramente Bellissimo Senza contare che è una Location meravigliosa Cioè È troppo bella Noi siamo saliti da dietro E poi da davanti C'era tutta una stradina Ovviamente noi abbiamo fatto La strada a posto Come al solito Ma la strada Diciamo del ritorno Quella che poi avete visto Che era leggermente Mino Ripida Quella parte È bellissima Cioè È veramente Una location Unica al mondo Secondo me Veramente Veramente Stupendo Dopo il tour Siamo andati Al Goddess Temple Io ho rotto le palle Che volevo fare shopping Ma non perché mi interessasse In realtà fare shopping Vero e proprio Ma perché ci tenevo Ad avere qualcosa Di Glastonbury E siamo andati A comprare Varie cosine Tra cui Mo' vi faccio vedere Le varie cosine E Siamo arrivati Al Goddess Temple Io ho visto fotografie Del Goddess Temple Non so quanti anni sono Che me lo Ci sbavo E Uno dei miei desideri Se non fossi partita Per Londra Io ho una Una stanzetta All'ultimo piano Di un palazzo Dove sta a casa Di mia nonna C'è questa stanzetta Praticamente Tipo Soppalco Che è totalmente Da ristrutturare Mi sono sempre detta Se un giorno Se non parto Per Londra Se non parto Per Londra E Comincio a mettermi Soli da parte Voglio ristrutturare La stanzetta E ci voglio fare un tempio Tipo il Goddess Temple Quindi poi Entrare al Goddess Temple Tra l'altro L'abbiamo trovato chiuso Io volevo morire Ho detto Vabbè Non ho iniziato A rompere le scatole Perché ho detto È stata una giornata Troppo bella Sono contenta Anche così Infatti In uno degli audio Dei video Che poi sono andata A montare Dicevo Vabbè Va bene così Vabbè Va bene così Vabbè Sono contenta Allo stesso Però poi Thomas ha bussato Ha bussato Solo la porticina Del Goddess Temple E il signore Io ho detto Guardi Senta Io abito a Londra Ma sono italiana E desidero Vedere il Goddess Temple Da tanto tempo E lui è stato Tanto carino Perché ci ha fatto entrare Ha detto Fate tutte le foto Che volete Ma io ero talmente Presa Che alla fine Non ho Non ho fatto nessuna Cioè Tutte le foto Che vedete Le ha fatte Gina Io non ho fatto niente Perché ero totalmente In Oh mio Dio Che meraviglia Ma è eccezionale Cioè C'è un amore Che trasuda da tutte le parti Veramente Qualunque dettaglio Perché poi è pieno di cose Qualunque dettaglio Che c'è in quella stanza Che poi tra l'altro Mi aspettavo più grande Invece è veramente piccolino È pieno d'amore È pieno di dedicazione È pieno di È meraviglioso Veramente Non Non ci stanno altre Altre parole Io Sono tornata Profondamente cambiata Perché io sono partita Con un Sicuramente È un bellissimo posto Sicuramente La L'entità della Dea Si sente Perché c'è un Come dire Un richiamo di energia Più forte Ci sono persone Che È più concentrato Ecco Però Sono partita Un poco dubbiosa Un po' da Voglio mettere alla prova Questo posto Voglio vedere Perché tutti dicono Che è così Ma È bellissimo Non ci sono altre parole È veramente Quello che dicono Che è Quindi io spero Stavo anche pensando In realtà Di mettermi a fare I tre anni di training Come sacerdotessa Ma vediamo Perché Questa è una cosa Che non mi piace Ma purtroppo Sono molto costosi E quindi Va un po' contro Il mio principio Ecco Quindi Non sono molto sicura Di questa cosa Quindi vediamo un attimo Però Mi piacerebbe Mi piacerebbe Veramente tanto E poi ovviamente C'è il problema Dell'inglese Ma vediamo anche questo Però Sicuramente Ci tornerò Per fare tante altre cose Vuoi per partecipare A rituali Vuoi per farmi Un altro giro Vuoi per dedicarmi Un po' di tempo Alla dea Di Avalon O la dea Comunque in generale E ora vi mostro Quello che ho comprato Allora Per prima cosa C'è Questa Beh Il porta candela L'ho fatto io Però la candela È Quella che abbiamo preso Lì È particolare Perché c'è tutta questa cera Fatta così E poi dentro È rossa È bellissima Questa cosa E questa è la mia Candelona Di glass tomboli Da oggi in poi Anche perché Ultimamente Non so per quale motivo Ma sono fissata Con i colori Autunnali Colore rosso Tantissimo Il bordeaux Infatti Mi sono comprata Un saccomo di magliette Di questo colore Non so perché Io prima odiavo Il colore rosso Invece adesso lo adoro Quindi questa candelona In realtà L'ha comprata Thomas L'ha scelta Thomas Quindi è una candela di Thomas Per la prima volta Poi Io sono andata a glass tomboli Con la precisa idea Di comprarmi Uno di quei bellissimi Standardi Di questa Illustratrice Che si chiama Wendy Andrew Che io adoro Vi lascio la pagina Io sono assolutamente Innamorata Di questa illustratrice Che è Quella Diciamo Delle illustrazioni Di glass tomboli Sono tutte quante sue Sono partita Sono partita con l'idea Di volermi comprare Uno di quegli standardi Ma anche se costava tanto Me ne volevo comprare uno Non mi interessava Però non c'erano C'erano soltanto Quelli che io non volevo Quindi mi sono andata A comprare queste Che sono sostanzialmente Le illustrazioni Fatte a cartolina C'era questo qua Che mi piaceva Ma non mi convinceva Tantissimo Questo è Love Goddess Poi c'è Harvest Goddess Questi sono tutte quante Le illustrazioni Poi c'è Earth Goddess E poi ci sta questo Che è la crona In realtà Ne sono tante altre Però Al momento Mi chiamavano Questi qua E quindi ho preso questi In realtà Pensavo Di fare Un giveaway La prossima volta Che vado a glass tomboli Compro qualcosina Per voi E facciamo Un mega giveaway E come in Premio in palio C'è un qualcosa Di glass tomboli In modo che Più particolare Di quello che è Non si può E poi ho comprato Questa Che l'ho presa Pure da una mia amica Che è bellissima Quando l'ho vista Ho detto no È stupenda Perché è proprio La mia concezione Della dea Tra La terra e l'acqua Con tutti gli animali È proprio Molto molto bella E poi una cosa Che io in realtà Desideravo tantissimo Non era proprio Questa qua Però quando sono Entrata nel negozio L'ho vista L'ho toccata L'ho abbracciata E mi sono detto Vabbè dai non fa niente Non la compro Perché ce l'ho già Sono uscita dal negozio Sono andata dall'altra parte Della strada E sono rientrata Per andare a comprarla Ed è questa Guardate quant'è bella Io sono totalmente Innamorata Perché In realtà Io sono innamorata Della mia Quella là Che vi ho già mostrato Però questa è E mi ha proprio chiamata Non ho potuto Non prenderla È cicciottella come me È azzurra Quindi È veramente Veramente Stupenda Non No Ci sarei rimasta Troppo male Se non l'avessi presa Anche perché appunto Avevo preso solo cartoline Quindi ho detto Vabbè ma magari Qualcosa di concreto Lo prendo E infatti poi Le cartoline Cioè queste qua Non sono cartoline Le ho Le ho messe tutte quante Sull'altare In realtà La prossima volta Che vado Il problema è che Avevamo poco tempo Quindi Ho preso proprio Le cose che mi piacevano Per non comprare cose Che poi non avrei Non avrei utilizzato Però la prossima volta Che ci vado Volevo comprare Delle altre illustrazioni Da mettere nel libro Delle ombre Come Illustrazioni per I sabba E poi ovviamente Volevo prendere Altra roba Ho visto un sacco Di ciondoli Meravigliosi Che costavano poco Quindi poi vediamo un po' Non so quando ci andrò La prossima volta Quindi vediamo Però niente Alla fine Spero di andarci Il più presto possibile Non Penso che non mi stancherò Mai di andare lì E niente Io so che In questi 20 minuti di video Non si capirà esattamente Ciò che Ho voluto comunicare Anche perché appunto A parole è molto molto difficile Probabilmente Le persone che sono state A Glastonbury E le persone con cui ho parlato Prima di andare a Glastonbury Mi ricordo che mi dicevano Tante cose che io non capivo Che non riuscivo a spiegare Ma che capisco adesso Che ci sono stata Quindi probabilmente Ecco appunto Le persone che sono state A Glastonbury Possono capire Quello che io sto dicendo Le persone che ancora Non ci sono state Mi prenderanno un po' Per pazza Ma io Vi auguro Almeno una volta Nella vita Di riuscire ad andare In quel posto Perché è veramente magico Dal più piccolo filo d'erba Al gigante Thor Che sta sulla collina E soprattutto Magari se Se venite a Londra E se Avete voglia di andarci Magari fatemelo sapere Un po' prima Che ci organizziamo Andiamo tutti quanti insieme Facciamo una mega gita A Glastonbury Io vi lascio un bacione Vi ringrazio infinitamente Per aver guardato questo video E ci vediamo alla prossima Mua